Come ogni anno purtroppo, anche per il 2017, il 1 gennaio coincide anche con la conta dei danni e dei feriti per l'esplosione di botti di capodanno. Nella provincia di Salerno sono tre le persone rimaste ferite tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, a cui si aggiungono due giovani rimasti feriti invece nel pomeriggio per l'esplosione di un botto illegale. Un ferito anche nel Vallo di Diano. Si tratta di un trentenne di San Rufo che ha riportato lo sfacello della mano destra con perdita della quarta e quinta falange per l'esplosione di un petardo. Un ferito anche a nocere inferiore dove un altro trentenne è stato ricoverato nel reparto di oculistica dell'ospedale Umberto I per ferite ad un occhio. Infine un cinquantenne a Salerno, nella zona materno, ha riportato ferite alla coscia destra ed escorazione alla torace per lo scoppio di un botto. Come detto invece, nel pomeriggio del 31 dicembre un ragazzino di appena 13 anni di nome Alessio è rimasto ferito a deboli. Il giovane si trovava in via San Bernardino con un gruppo di amici, ha acceso la miccia di un botto illegale ma non è riuscito ad allontanarsi in tempo. Violenta l'esplosione, il colpo al ferito, il giovane al volto e alle mani. Il tredicenne è stato trasferito al reparto di oculistica dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ha perso tre dita della mano sinistra e l'occhio. Ferito anche un giovane che si trovava con lui, per fortuna non in condizioni gravi.